All'interno di questo racconto ci sono tanti specchietti che creano questo mosaico e qui credo che tutti quanti potranno scegliere di riflettersi. Io personalmente Carlo lo conosco, ne conosco tanti, di Carlo, incluso una parte di me che è Carlo. Parlare del personaggio è sempre complicato, però penso che questo sia uno dei valori del film, il fatto che in realtà veramente c'è della vita quotidiana qui dentro, non ci sono supereroi, però sfido chiunque a dirmi che esiste una famiglia funzionale e non disfunzionale. In questo c'è tanta vita, c'è tanto amore e disillusione. Capisco Carlo perché è uno che tenta di tirare le fila di cose che gli sono sfuggite per tanti motivi.